In questa lezione vogliamo spiegare e poi determinare il massimo comundivisore fra due o più monomi. Consideriamo quindi due monomi, il monomio A uguale a 2 alla seconda e il monomio B uguale a 4A. Vediamo subito come si indica il massimo comundivisore fra questi monomi. Beh, si usa una sigla ormai. Nota MCD che sta appunto per massimo comundivisore e poi fra parentesi tonde elenchiamo i due monomi, 2 alla seconda e 4A. Che cos'è il massimo comundivisore fra i due monomi? Vediamo subito la definizione. Si chiama massimo comundivisore fra due o più monomi, quel monomio scelto fra i divisori comuni dei monomi dati che ha grado maggiore. Vediamo allora come determinare il massimo comundivisore e seguiamo la definizione. Dobbiamo individuare i divisori dei due monomi, quindi scrivere i divisori di 2A alla seconda. Puoi scrivere i divisori di 4A e poi fra questi divisori individuare quelli comuni. Scriviamo subito i divisori di 2 alla seconda. Questi sono 1, 2A, 2A, A alla seconda e 2A alla seconda. Scriviamo adesso i divisori di 4A, che sono 1, 2, 4A, 2A e 4A. Non resta adesso che individuare i divisori comuni. Beh, è abbastanza facile questo. Osserviamo subito che 1 è un divisore comune, come lo è il 2. Poi troviamo ancora il monomio A e il monomio 2A. Ora, possiamo rappresentare questa situazione anche con i diagrammi di Euler-Rowenna. Indichiamo con A l'insieme dei divisori di 2 alla seconda e con B l'insieme dei divisori di 4A. Ovviamente, perché ci sono dei divisori comuni, fra i monomio 2 alla seconda e 4A, i due insiemi hanno un'intersezione diversa dall'insieme vuoto, quindi non sono disgiunti. Nell'intersezione tra i due insiemi, andiamo a inserire i divisori comuni. E quindi, dobbiamo inserire il divisore 1, 2, A e 2A. Completiamo adesso l'insieme A inserendo i divisori che sono rimasti, e quindi A alla seconda e 2A alla seconda. Completiamo anche l'insieme B andando a inserire gli altri monomi. E quindi dobbiamo inserire qua il numero 4 e il monomio 4A. Adesso vediamo che i divisori comuni sono i monomi 1, 2, che hanno entrambi grado 0, i monomi A e 2A che invece sono di grado 1, quindi il grado maggiore è 1. Quale scegliere fra A e 2A come massimo comun divisore? Osserviamo che i coefficienti dei monomi 2 alla seconda e 4A sono dei numeri interi, per cui è possibile determinare il massimo comun divisore anche fra i coefficienti. fra 2 e 4 il massimo comun divisore è 2. Si conviene allora di scegliere come massimo comun divisore fra due monomi, non solo il monomio che è grado maggiore, ma quello che ha come coefficiente il massimo comun divisore fra i coefficienti. quindi il massimo comun divisore fra 2A alla seconda e 4A è il monomio 2A. Facciamo ancora un esempio. Determiniamo adesso il massimo comun divisore fra i seguenti monomi. Quindi il monomio A uguale a meno 4P alla quinta T alla terza e il monomio B uguale a 10PT alla seconda e S alla terza. Vogliamo perciò determinare il massimo comun divisore fra i monomi meno 4P alla quinta T alla terza e 10PT alla seconda e S alla terza. Per determinare questo massimo comun divisore potremmo seguire, come abbiamo fatto in precedenza, la definizione e quindi determinare tutti i divisori di meno 4P alla quinta e T alla terza, tutti i divisori di 10PT alla seconda e S alla terza e poi per i divisori comuni e prendere quello che ha grado maggiore. Ora, scrivere tutti i divisori di questi due monomi è abbastanza lungo. Esiste una regola pratica per determinare il massimo comun divisore del tutto simile a quella che serve per determinare il massimo comun divisore fra due numeri naturali. Quindi, determiniamo allora il coefficiente del massimo comun divisore. Come abbiamo detto in precedenza, poiché i coefficienti di A e B sono dei numeri interi, il coefficiente del massimo comun divisore sarà il massimo comun divisore fra i valori assoluti dei due coefficienti. Il valore assoluto di meno 4 è 4, il valore assoluto di 10 è 10, quindi il massimo comun divisore fra 4 e 10 è 2. Dobbiamo determinare adesso la parte letterale sempre del massimo comun divisore. La parte letterale del massimo comun divisore sarà formata dal prodotto di tutte le lettere comuni ai due monomi prese una sola volta con il più piccolo esponente. Andiamo a cercare le lettere comuni. Cominciamo a prendere in esame la lettera P nel monomio A. La lettera P è presente sia nel monomio A che nel monomio B. Nel monomio A ha esponente 5, nel monomio B ha esponente 1, l'esponente più piccolo è 1, quindi nella parte letterale del massimo comun divisore la lettera P sarà presente con l'esponente 1. Nel monomio A è presente la lettera T. Vediamo se questa lettera è presente anche nel monomio B. La lettera T è presente in tutte e due monomi. Nel monomio A ha esponente 3, nel monomio B ha esponente 2, l'esponente più piccolo è 2, quindi nella parte letterale del massimo comun divisore la lettera T comparirà con l'esponente 2. Nel monomio A non ci sono altre lettere, quindi la lettera S che è presente nel monomio B non è una lettera comune due monomi e quindi non sarà presente nella parte letterale del massimo comun divisore fra i due monomi. Alla luce di quanto abbiamo visto, possiamo allora dire che il massimo comun divisore fra i monomi meno 4P alla quinta T alla terza e 10P T alla seconda S alla terza è un monomio che ha come coefficiente 2 e come parte letterale e come parte letterale PT alla seconda. Determiniamo il massimo comun divisore fra i monomi 2 terzi G alla quarta e 5G alla seconda. Possiamo seguire la regola lista in precedenza, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è determinare il coefficiente del massimo comun divisore fra questi due monomi. Osserviamo che i coefficienti dei due monomi, quindi 2 terzi e 5, non sono entrambi interi, quindi in questo caso il coefficiente del massimo comun divisore è uguale a 1. Adesso determiniamo la parte letterale del massimo comun divisore. Come abbiamo fatto in precedenza, la parte letterale sarà formata dal prodotto delle lettere comuni e i due monomi prese ciascuna una sola volta con il più piccolo esponente. Osserviamo che nel primo monomio compare la lettera G, tale lettera è presente anche nel secondo monomio. Nel primo monomio la lettera G è esponente 4, nel secondo monomio è esponente 2, il numero più piccolo è 2, quindi la parte letterale del massimo comun divisore sarà G elevato alla seconda. Possiamo allora dire che il massimo comun divisore fra i due monomi, quindi 2 terzi G alla quarta 5 G alla seconda è uguale a G alla seconda. Determiniamo adesso il massimo comun divisore fra i monomi 2 noni A alla quinta C alla seconda e il monomio 5 settimi B alla terza. Applichiamo sempre la regola applicata in precedenza, quindi determiniamo il coefficiente del massimo comun divisore poiché i coefficienti dei due monomi 2 noni e 5 settimi non sono interi, il coefficiente del massimo comun divisore sarà 1. Determiniamo adesso la parte letterale del massimo comun divisore fra i due monomi. Osserviamo che nella parte letterale dei due monomi non sono presenti lettere comuni, quindi non possiamo prendere alcuna lettera. In definitiva possiamo allora dire che il massimo comun divisore fra i monomi 2 noni A alla quinta C alla seconda e 5 settimi B alla terza è uguale a 1.